un riconoscimento per i 30 anni di attività ad Imperia TV, quindi un applauso a una realtà davvero importante del nostro territorio. Chi abbiamo di Imperia TV? Chi era a girare il prego? E quindi abbiamo Lorella Zunino e Andrea Formati, complimenti, insomma un riconoscimento per i 30 anni di attività. Ragazzi come va? Bene, ritiro il premio ovviamente a nome di mio papà Francesco Zunino che è l'editore di Imperia TV, 30 anni di attività, soltanto è qui. Quindi molto grazie alla sua preparatoria e ai sacrifici che ha fatto, quest'anno possiamo festeggiare i 30 anni anche grazie allo staff e con me c'è Andrea Formati che è 30 anni che è in piccina a mio papà. Grazie e grazie a Videofilesi. Grazie, grazie a Videofestile della strada Imperia, grazie a Fiorenzo, a tutto lo staff e a tutti voi che siete qui questa sera. Per noi naturalmente è un grande piacere, un grande onore e anche lo stimolo ad andare avanti sempre garantendo l'informazione locale, quella del territorio, quella che come benissimo ci insegna Iannacone che è qui con noi questa sera, che è un grande piacere avere con noi, è quella vera che va cercata in mezzo alla gente, anche nelle piccole cose, in modo indipendente, cercando di far uscire le storie che ci sono anche in quelle zone più dimenticate. Noi abbiamo cercato di farlo sempre anche nei piccoli paesini dove magari le grandi realtà non arrivano. Lo spirito di Francesco Zunino è questo e noi vogliamo andare avanti così, perlomeno ci proviamo. Grazie ancora a tutti voi. Grazie, buona serata e grazie per il contributo che il Pena TV continua a dare davvero al nostro territorio.